Vecchie fabbriche, prigioni, parchi acquatici, manicomi, luoghi di vita delle nostre città che hanno in comune una sola cosa, l'abbandono. Cadaveri eccellenti, come sono stati chiamati, e che ora tornano in vita in una mostra fotografica Intruders Urban Explorers, a cura di Luca Blas Forlani alla Rocca Roveresca di Senigallia. Appassionata ricerca, circa dieci anni fa, riportando alla luce circa 200 edifici abbandonati nella regione Marche, quindi un patrimonio storico e architettonico straordinario, come li definisce Pippo Ciorre, i nostri cadaveri eccellenti. Non solo scatti, ma anche un video realizzato da due videomaker, Gastone Clementi e Matteo Giacchella. Per noi è una valenza sia estetica, nel senso di fermare con delle immagini delle cose che poi spesso deperiscono, vengono distrutte o vengono abbandonate, non sono visibili al grande pubblico, e tra l'altro c'è anche una valenza etica, perché per noi il discorso sulla riqualificazione degli stabili abbandonati è molto forte. La mostra, curata dalla MAC, manifestazioni artistiche contemporanee, si inserisce nel filone del recupero degli spazi delle nostre città. Prosegue il nostro interesse verso delle esperienze a livello urbano che siano più cittadine, quindi il progetto pop-up che abbiamo fatto negli ultimi tre anni nella città di Ancona con street artist, urban artist, coinvolgendo la decorazione di muri, piloni, barche, pescherecce eccetera. L'esposizione inaugurata lo scorso 17 giugno andrà avanti fino al 4 settembre.